allora buon pomeriggio a tutti gli amici della storia oggi mi chiamo Mosnecci oggi ho il gradito compito di ospitare la conferenza di oggi dal titolo le politiche per il clima lungo il filo della storia come sapete tutti quanti il clima è uno degli argomenti cardine dei tempi in cui stiamo vivendo la stessa Ursula von der Leyen presidente della commissione europea ha proprio fatto delle politiche per il clima un nodo centrale del suo mandato e lo stesso piano nazionale di ripresa e resilienza italiano ha stanziato una quantità direi inaudita e inedita di fondi per lo sviluppo di tutto l'economia che ruota attorno alle tematiche del clima e quindi direi che le politiche climatiche andranno ad avere un impatto negli anni che negli anni futuri sempre sempre più importante oggi a parlare di questo tema abbiamo una collega Elisabetta Vignati del centro comune di ricerca Elisabetta Vignati è una fisica laureata all'università degli studi di Milano con un dottorato di ricerca in geofisica conseguito presso l'università di copenhagen vantando una carriera di oltre 20 anni di studi nel settore della scienza dell'atmosfera nel suo lavoro Elisabetta Vignati si è occupata principalmente dello sviluppo e dell'applicazione di modelli atmosferici che servono appunto a valutare l'impatto delle attività umane sulla qualità dell'aria e del clima è autrice di numerosi articoli pubblicati in riviste scientifiche dal 1999 lavora per il centro comune di ricerca della commissione europea ed è a capo dell'unità qualità dell'aria e clima della direzione per l'energia i trasporti e il clima la sua unità si propone di fornire analisi integrate a supporto delle politiche dell'unione europea riguardanti i temi della qualità dell'aria e del clima ti lascio la parola Elisabetta Vignati. Grazie Amos, grazie di cuore per questa bella introduzione e buon pomeriggio quasi sera a tutti è veramente un grande piacere potrei essere qui questa sera per parlarvi di questo argomento che come Amos ha introdotto molto importante e veramente che sta influenzando la nostra vita il clima è una delle dei dei temi che comunque mi ha sempre molto interessante interessato per varie ragioni la prima dal punto di vista sicuramente personale come tutti anche no anch'io comincio a vedere ho già cominciato da tempo vedere intorno i cambiamenti che questo in realtà porta quello che noi vediamo proprio nell'ambiente intorno intorno al mondo i cambiamenti che sono dovuti proprio alla alle variazioni climatiche la seconda ragione è proprio per mia natura ma anche perché viene dal mio background scientifico la curiosità di poter capire di poter comprendere qual è la ragione di questi cambiamenti e anche il fatto di essermi trovata per ragioni di lavoro a dover lavorare a poter lavorare proprio sugli aspetti del clima e chiedere anche a me stessa come potevo essere sicura che l'uomo o quali fossero le cause veramente che davano origine a questo cambiamento climatico e la terza in parte la detta amos è per il lavoro che ho attualmente io lavoro alla commissione europea è un organo pubblico il cui lavoro è anche quello di preparare azioni che poi a livello europeo andranno a contrastare oppure ad aiutare l'adattamento ai cambiamenti climatici e quindi trovo che sia importante avere una comprensione di questo argomento al punto da poter essere veramente utile nel nel ruolo che io cominciamo quindi questa questo viaggio insieme e scusate per qualche ragione adesso non funziona scusate un secondo riproviamo ecco incominciamo questo questo viaggio insieme e voglio introdurvi perché e che di che cosa vi parlerò questa sera allora abbiamo detto il clima abbiamo detto le componenti fondamentali che sono la scienza che sono le politiche che poi regolano le azioni da da prendere sarà un viaggio lungo la storia ma non sarà lungo la storia del clima ma sarà lungo la storia che un po ha portato alle scoperte scientifiche importanti per la comprensione delle cause del cambiamento climatico e anche come la storia e la scienza e le politiche hanno cominciato intrecciarsi in questo lungo viaggio quindi non parlerò di tutta la scienza della dinamica dell'atmosfera del clima guarderò soltanto certi certi aspetti perché è troppo grande e e e ovviamente non guarderò il futuro guarderò il nostro passato abbastanza prossimo guarderò quello che sta succedendo adesso e intreccieremo appunto la nostra storia in in questo asse temporale quando parliamo del cambiamento climatico vale la pena di vedere di che cosa parliamo allora innanzitutto quando parliamo del cambiamento climatico in realtà noi pensiamo al cambiamento del clima che avviene dovuto a un aumento della temperatura che noi sperimentiamo che il nostro pianeta sta sperimentando è in realtà un riscaldamento globale quello che sta succedendo e i cambiamenti climatici sono una una un effetto di questo riscaldamento globale di questo aumento della temperatura che sta avvenendo in maniera importante in tutte le parti del nostro globo una cosa che viene fatto quando parliamo del cambiamento e riferirci a cosa questo cambiamento questa temperatura è riferita a cosa ci sono varie maniere per trattare questo e in realtà quello che si parla molto innanzitutto è dell'aumento della temperatura che noi vediamo rispetto al periodo preindustriale quindi un po' prima dell'asse temporale che vediamo qua e poi in genere quello che si vede è un grafico di questo tipo che mostra quella che viene chiamata una anomalia della temperatura il clima si sviluppa su scale sia temporali che spaziali molto ampie e quindi viene utilizzata come termine di paragone della temperatura la media della temperatura di tutto il globo del passato secolo quindi ci sono cent'anni che noi utilizziamo per trovare una media di questa temperatura dopodiché noi valutiamo volta per volta anno per anno la differenza rispetto a questa temperatura ed è quello che vediamo qua in questo grafico vediamo appunto questa anomalia questa differenza di temperatura quello che vediamo immediatamente più o meno nonostante diciamo alti e bassi c'è una una tendenza a questa temperatura di salire già a partire dall'inizio del 1900 quello che anche si vede bene è come un'impennata di questa curva della temperatura proprio negli ultimi anni tant'è che il 2020 è stato l'anno il secondo anno più caldo da dal 1880 l'anno in cui più o meno le misure contemporanee con vengono fatte l'anno più caldo da allora risulta essere il 2016 ma leggermente più caldo del 2020 e quello anche importante è che dal 2005 noi stiamo vedendo misurando sperimentando 10 degli 11 anni più caldi che sono avvenuto in questo lasso temporale la nostra storia si si svilupperà appunto lungo quest'arco dove abbiamo avuto visto adesso l'andamento della temperatura a partire quindi da dopo la rivoluzione dopo l'inizio della rivoluzione industriale seguiremo proprio qui alcune delle cose che introdurrò introdurrò in un momento ma quello che possiamo subito dire è che questo lungo asse temporale permette di essere diviso in cinque parti nella prima parte quindi dalla fine del 1800 in poi comincia la comprensione del ruolo dell'atmosfera e dai gas serra per il clima dopodiché in un periodo comincia l'inizio della moderna era delle misure quindi si comincia ad avere un'idea di quello che sta succedendo proprio misurando i vari parametri nel mezzo del 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 1900 abbiamo le teorie a quel punto la gente comincia a chiedersi a a a descrivere i fenomeni che vede appunto con delle teorie ma si comincia anche a monitorare in maniera più sistematica il cambiamento che sta avvenendo più tardi vedremo che le politiche si intrecciano alla alla scienza quando la politica comincia veramente a guardare alla questione climatica e infine l'ultimo periodo è quello caratterizzato da una evidenza scientifica decisamente più chiara del problema e quindi anche le azioni anche a livello internazionale cominciano a prendere piede la cosa interessante della storia diciamo così di questa analisi è che in realtà i primi a sospettare a pensare che l'uomo potesse avere un effetto sul clima non furono centi non furono scienziati ma furono pensatori furono storici furono filosofi e ne ho scelti due qua a jean baptiste duboss francese e davidium inglese e furono i primi in una abbastanza lunga lista di personaggi appunto non scientifici che si posero il problema di quello che stava succedendo il clima ed è il francese jean baptiste parla dal parte del dal concetto che se la gente vive in un clima più piacevole sicuramente l'aspetto creativo dell'uomo è più è più funziona meglio e da lì comincia a fare una sua analisi di che cos'è l'aria e del fatto di quale l'interazione con il suolo del fatto che ogni cambiamento il possibile cambiamento del suolo delle acque poteva avere un'influenza sull'aria stessa e arrivare addirittura a ipotizzare che fosse che la deforestazione ma anche l'uso del suolo per le coltivazioni quindi poteva cambiare l'aria e quindi anche il benessere e cambiare anche la capacità creativa dell'uomo davidium si fa un passo leggermente più in là e va anche a vedere qual è la situazione non solo dell'europa dove le coltivazioni stavano prendendo piede ma vede anche il l'impatto dell'uomo sulle foreste nel nord america dove appunto i coloni europei le abbattevano e quindi pensa di legare al cambio che stava avvenendo alla mitigazione di quel clima con queste due con queste due ragioni al di là della filosofia del pensiero filosofico vediamo dal punto di vista della scienza cosa succede un secolo dopo questi due pensatori e in particolare nella prima parte del nostro grafico che noi seguiremo infatti su questo grafico noi andremo a seguire non solo le vicende scientifiche o poi della policy ma anche quello che sta avvenendo che stava avvenendo in quel periodo per ciò che riguarda sia la temperatura sia le concentrazioni della co2 che vedremo proprio in un attimo essere chiamata in causa quasi immediatamente all'inizio dell'esplorazione scientifica dei cambiamenti climatici quindi quello che noi vediamo è quella adesso vedremo questa vediamo questa barra blu poi vedremo delle barre rosse misura esattamente mostra la l'anomalia di temperatura che è sempre questa differenza rispetto alla media del secolo e vediamo anche le concentrazioni che possiamo vedere sull'asse sulla destra della co2 allora non venivano ancora la co2 non veniva monitorata ancora come avviene nel tempo presente però possiamo ricostruirla utilizzando le carote di ghiaccio che vengono prese e quindi lì vediamo un valore delle temperature nel periodo preindustriale circa a 280 290 ppm quello è il periodo in cui un francese joseph fourier propone come come causa della della temperatura media della terra l'effetto serra naturale che cos'è l'effetto serra naturale l'effetto ser quello che succede è la radiazione del sole raggiunge la terra viene parzialmente riflessa ma viene anche assorbita dalla terra stessa che l'aria emette e l'aria emette sotto forma di infrarossi ma facendo un calcolo diciamo di questo meccanismo in cui c'è il sole la terra insieme si misura si calcola che la misura del media della terra sarebbe meno 18 gradi il che non permetterebbe sicuramente l'esistenza di della vita come noi la vediamo adesso e nelle condizioni in cui vediamo adesso quello che joseph fourier pensa invece è che l'atmosfera fa da amplificatore di questa di questo calore perciò quando la terra emette la sua radiazione infrarossa l'atmosfera in realtà assorbe questa radiazione e riscalda quindi di più quindi è l'atmosfera per joseph fourier ad essere il l'attore vero della possibilità di una temperatura circa di 14 gradi che noi vediamo sul nostro pianeta con tutto lo sviluppo che ne consegue dopo un po di anni john tyndall dimostra va fa un passo avanti e dimostra c'è cerca di capire quali sono gli attori all'interno di questa atmosfera che danno origine a questo riscaldamento e li identifica nel vapore acqueo che è molto molto diffuso ed è un gas serra naturale per la terra ma individua anche altri gas che sono in quantità sicuramente minore all'interno della nostra atmosfera incluso l'anidride carbonica tutti questi gas sono trasparenti alla luce visibile del sole cioè quando il sole arriva verso l'atmosfera passa attraverso ma non lo sono più quando c'è la radiazione infrarossa riemessa dal nostro pianeta che invece assorbe e quindi identifica quali sono le cause dell'effetto serra anche naturale naturalmente ed è quello che appunto viene messo qua circa 50 anni dopo si fa un ulteriore passo avanti in questa comprensione e svante a regnus un uno scienziato svedese fa il calcolo di quale è il contributo della anidride carbonica all'effetto serra pubblica questi calcoli e pubblica per la prima volta una componente molto importante di questa comprensione va a vedere esattamente cosa succederebbe alla temperatura della terra quando noi duplichiamo le concentrazioni della co2 quindi immaginandosi quanto è il la risposta della nostra del nostro pianeta a questa duplicazione e calcola che la temperatura in quel caso del nostro pianeta crescerebbe diceva di cinque o sei gradi e poi ipotizza per la prima volta che la grande parte della differenza di temperatura che esiste e determina la differenza fra le reglaciali e quelle interglaciali fosse dovuta alla anidride carbonica adesso ci fermiamo un attimo come lo faremo durante il corso di questo seminario e andiamo a vedere un po dal punto di vista scientifico che cosa noi sappiamo almeno di tutto questo e ci riferiamo esattamente a quello che è lo stato della conoscenza che ci viene dal guardare lo stato del nostro pianeta per ciò che riguarda la temperatura e anche della CO2 guardando indietro nel tempo e lo si può fare analizzando quelle che sono le carote di ghiaccio in realtà lo studio più completo che noi conosciamo di questo arriva fino a 800 mila anni fa quindi insomma è un bel record che noi abbiamo a disposizione allora queste carote di ghiaccio ovviamente contengono dentro di sé appunto le strutture da cui si risale a qual è la temperatura ma contengono anche delle bolle di aria dove la CO2 è presente e può essere misurata la prima cosa che quando noi guardiamo questo grafico è che la temperatura quindi siamo qui stiamo guardando la temperatura che viene estratta che viene calcolata da queste carote la temperatura ha seguito negli anni un ciclo di centomila anni questo ciclo è un ciclo naturalissimo ed è dovuto alle variazioni dell'orbita terrestre sia del dell'eclittica terrestre quindi la forma sia la 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 pendenza del suo asse quindi questo è una cosa che noi conosciamo molto bene quello anche che si vede molto chiaramente da questi grafici che c'è una salita di temperatura che sembra molto ripida ma parliamo di un innalzamento di temperatura che avviene nell'archeo di migliaia di anni molto ripida è una discesa di questa temperatura che non è altrettanto ripida che invece è molto più lenta e la cosa molto importante da vedere che quello che separa in termini di temperatura un'era glaciale da un'era interglaciale noi siamo nell'olocene è solo di circa 5 gradi quindi basta una differenza di 5 gradi al nostro pianeta per passare da un'era glaciale a un'era interglaciale e questo pone veramente un po' meglio nella nella scala del nostro pensiero quel grado che noi abbiamo visto nel grafico precedente e a cui torneremo fra non molto quando stico quando si mettono insieme i grafici della temperatura e quelli della concentrazione della co2 si vedono delle cose molto interessanti non è sorprendente che ci sono dei cicli simili anche nella co2 rispetto alla temperatura ma quello che è molto importante è che queste variazioni di temperatura anticipano di qualche centinaia di anni quelle della co2 quindi non sono concorrenti non avvengono contemporaneamente e questo cosa ci dice ci dice che la variazione della temperatura l'innalzamento per esempio della temperatura che avviene che è avvenuta allora anche per i cicli eh naturali dell'orbita terrestre portavano appunto questi questa variazione portava l'aumento della temperatura l'aumento della temperatura causava un aumento delle concentrazioni di co2 nell'atmosfera semplicemente perché la co2 che risiede nel nostro pianeta e in grandissima quantità negli oceani con l'aumento della temperatura viene eh è emessa dal mare e arriva nell'atmosfera quindi questa concentrazione veniva portata dentro l'atmosfera dagli oceani proprio per questa variazione di temperatura ma una volta che il ciclo cambiava ehm eh dal punto di vista della temperatura quindi ancora una volta per 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 legato all'orbita la temperatura scendeva ma la concentrazione della co2 vediamo non scendere con la stessa velocità della salita ma neanche la temperatura e perché questo perché la concentra perché la co2 nell'atmosfera rimane veramente per parecchi anni per centinaia di anni non la eliminiamo dalla nostra atmosfera nell'arco di pochi giorni e quindi anche lì eh in maniera molto complessa ma questa concentrazione ha bisogno di risentire e per lungo tempo di questo abbassamento della temperatura per veramente ritornare nell'oceano e non c'è un meccanismo che la fa ritornare immediatamente nell'oceano abbiamo capito lo sappiamo c'è una relazione fra la concentrazione della co2 l'avevano già dimostrato allora e l'impatto sulla temperatura la temperatura del nostro pianeta non discende con una velocità con cui è salita segue molto bene invece la discesa di quella co2 se diciamo adesso la temperatura del nostro pianeta eh in termini assoluti può essere vista anche diciamo così in maniera eh simile ad alcuni dei picchi che noi rileviamo nel nel passato di questa temperatura certamente quello che avviene ora e non vedevamo avvenire allora è l'aumento repentino di questa temperatura abbiamo visto questo aumento molto grande della temperatura in un tempo veramente molto breve mentre qui succedeva nell'arco di migliaia di anni ma quello che non abbiamo visto nell'atmosfera eh della della del nostro pianeta è la concentrazione di co2 che vediamo adesso e non non lo era neanche presente nel caso degli della della serie degli 850 mila anni andiamo avanti eh andiamo un altro step più avanti intanto le nostre temperature cominciano ad avere qualche variazione verso l'alto la concentrazione della co2 e cresce negli anni nella fine degli anni 30 eh un ingegnere usa eh Stuart Gallender usa più di 200 stazioni meteorologiche meteorologiche sparse in giro analizza i dati e trova che la temperatura in queste in queste stazioni è è aumentata e in particolare valuta un aumento delle temperature abbastanza bassa ma comunque eh comincia a vederla eh eh sarà venuta negli ultimi 50 anni e lui lo la collega alla alla co2 emessa dalle attività umane e ehm perché questo perché comincia a pensare a capire che la co2 che viene messa con l'uso dei combustibili fossili era rimasta nell'atmosfera in qualche maniera il pianeta non riusciva più a ehm creare un ciclo naturale e assorbire quindi quello che si trovava ehm arrivare fermiamoci un attimino e vediamoli innanzitutto questi attori questi che abbiamo già visto essere considerati come come i gas serra quelli che eh aiutano quest'aumento della temperatura già abbiamo sentito parlare della co2 ma ne abbiamo altri due che sono molto importanti che sono il metano e la N2 o l'ossido nitroso questi queste tutte queste sostanze sono sono emesse come vedete da una miriade di sorgenti di vario tipo andiamo dalla dalla generazione dell'energia al trasporto all'industria al al emissioni residenziali all'agricoltura agli allevamenti ai ai rifiuti al trasporto eh del 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 gas per esempio quindi hanno una miriade di ehm di sorgenti e molte di queste sorgenti emettono più di un eh di un gas serra quindi complica molto eh diciamo l'analisi di questa e anche eh le azioni da fare. Il periodo successivo eh vede eh la crescita di nuovo della temperatura vede anche in quella linea gialla eh l'inizio delle misure eh moderne veramente moderne del monitoraggio come si dice ma nel frattempo quella che era successo si era capito qualcosa ancora di più guardando cominciando a studiare e relazionando un po' eh le conoscenze eccetera si arriva alla fine alla metà a fine degli anni cinquanta a capire anche un altre cose nuove su questo processo. Prima di tutto eh comincia a esserci un calcolo di quanto le attività umane potessero aver aumentato le concentrazioni e eh si fa il calcolo ehm che queste concentrazioni sono salite con la velocità di trenta per cento nel secolo che stavano vivendo e che comunque questo ehm ehm poteva portarsi e poteva portare con sé un aumento per secolo di un grado virgola uno centirodo. Non siamo andati molto lontano nel 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 capirlo. Ehm l'altra un'altra componente fondamentale era perché la CO2 rimaneva nell'atmosfera? Perché c'era questo eccesso di CO2 che non veniva più riassorbita dal pianeta e la ragione eh viene tirata fuori l'oceano non era più in grado di assorbire queste concentrazioni e le concentrazioni erano molto elevate mentre il processo naturale di questo scambio era avvenuto ehm quindi gli scambi del flusso di CO2 è abbastanza tale da mantenere il pianeta in equilibrio con l'arrivo dei combustibili fossili e dei gas sera dei combustibili fossili questo equilibrio viene spezzato e che comunque prevede col passare del tempo un aumento anche del venti del quaranta per cento delle concentrazioni della CO2. Contemporaneamente negli Stati Uniti il signor Killing comincia eh un programma molto importante che aprirà molto gli occhi su quello che sta avvenendo eh riguardante la CO2 che è il programma di monitoraggio della CO2 viene cominciato in un'isola eh nelle nelle Hawaii questo programma di monitoraggio continua tuttora e si porta con sé tutto il programma di monitoraggio che vedremo alla fine di questa presentazione coprire molto il nostro pianeta. Killing vede due cose molto interessanti quando comincia a misurare la CO2 e vediamo qui le misure allora prima di tutto il fatto che c'è un ciclo stagionale della CO2 quindi si comprende che in realtà c'è questo scambio fra la vegetazione e l'atmosfera quando la vegetazione ehm è nella suo stato verde in primavera e in estate ehm tende ad assorbire la CO2 perché eh cresce con essa e vede anche che questo picco della concentrazione anche se aveva pochi anni era sicuramente aumentato. Questo lavoro dà inizio ad una importante fase della pensiero politico anche se non delle azioni politiche e in nel 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 1965 il presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson chiede che venga scritto un rapporto al suo comitato eh al suo comitato scientifico sulla qualità dell'ambiente e una parte di questo eh rapporto è dedicato proprio all'impatto del gas serra dove questo rapporto nel 65 si scrive che ormai si vede un effetto misurabile della combustione dei 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 fossili sull'aumento della concentrazione dell'anidride carbonica e che anzi la velocità ehm di di questa di questa emissione è molto elevata ed aveva già anche procurato una un aumento di queste concentrazioni dall'epoca eh preindustriale. Arriva anche alle conclusioni che quindi nel duemila l'aumento della CO2 sarà vicino al venticinque per cento rispetto al periodo preindustriale e questo dice potrebbe portare dei cambiamenti molto radicali o sicuramente misurati misurabili marcati e quasi certamente causerà cambiamenti significativi della temperatura. Ci fermiamo per vedere cosa noi sappiamo di quelle di quei numeri che erano stati eh pubblicati eh pubblicati allora e di com'è rispetto al stato attuale della conoscenza. Questo è quello che noi misuriamo ora. Quindi abbiamo avuto un aumento della CO2 dal milleottocentottanta al duemila del ventisette per cento. Possiamo stimare più o meno in questo in questo arco temporale un trentasei per cento dell'aumento per secolo eh l'aumento della temperatura rispetto al momento alla all'era preindustriale è di circa un grado e abbiamo anche stimato questa che era quel parametro che aveva stimato anche a Regnus che dà l'idea di quanto è l'aumento della temperatura raddoppiando la CO2. E questo era lo stato della conoscenza di allora. Quindi eh raccogliendo quelle informazioni e guardando quei processi lo stato della conoscenza era tale da poter essere in grado di fornire quelle che erano le valutazioni che adesso con le misure possiamo eh determinare. E ovviamente eh l'altra questione molto importante che a quel punto per poter ehm agire eh con una politica era anche la comprensione veramente di quanto quindi l'uomo eh poteva essere avere eh come effetto come attore in tutta questa in tutta questa cambiamento. E ehm e qui io ho portato una figura ed è un'analisi fatta e pubblicata pochissimi anni fa eh dove c'è sempre l'anomalia della temperatura è in Fahrenheit invece di 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 gradi centigradi ma diciamo più o meno un grado centigradi circa 1,8 Fahrenheit quindi non ha importanza adesso il numero preciso ma invece la relazione che hanno queste componenti perché in questi grafici noi vediamo soprattutto dal secondo al quinto pannello qual è eh la componente o naturale o antropogenica che va a costruire a ricostruire quella temperatura quell'andamento della temperatura che noi vediamo nel grafico di sopra. Quell'andamento di temperatura è l'andamento che noi conosciamo eh soprattutto la la parte nera la parte rossa è la ricostruzione. Allora prima di tutto la eh la componente solare noi sappiamo che il nostro sole ha dei cicli cicli di undici anni e quello che noi possiamo vedere qui è il suo impatto su questa variazione della temperatura. Voglio tirare a tirare la vostra attenzione sulla scala di queste due grafici. Cioè nel primo grafico noi arriviamo a due gradi Fahrenheit come scala questa componente in questo grafico arriva a zero due come scala quindi bisogna mettere veramente in relazione qual è il la la il contributo alla componente totale. C'è anche una componente vulcanica naturalmente le emissioni dei vulcani in particolare le 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 particelle soprattutto di solfato ehm tendono ovviamente a ehm a respingere la la luce che arriva dal sole quindi hanno una componente raffreddante del del clima. E poi abbiamo anche una componente naturale questa componente naturale sappiamo che il sistema eh dinamico del nostro pianeta ha comunque una sua variabilità ed è stata eh valutata lì e ancora una volta voglio attirare la vostra attenzione sulle scale rispetto a quella iniziale. L'ultima è il calcolo della componente antropogenica in particolare eh della parte del dei gas serra e come vediamo la componente antropogenica è quella predominante nella ricostruzione di quel grafico della temperatura di sopra. Eh dall'ora dal millenovecento diciamo così eh ottantotto più o meno quando cominciamo questa ultima parte della nostra della nostra storia eh le le tre gas serra hanno continuato inesaurabilmente a crescere e nonostante il metano o l'N2O hanno concentrazioni sicuramente minori che la CO2 perché hanno due scale differenti hanno un potere di riscaldamento molto più elevato della CO2 quindi alla fine sono gas che anche loro hanno una grandissima importanza per per il bilancio termico del del pianeta. Eh questa carrellata scientifica finisce diciamo con con questo grafico che rappresenta quanto è condiviso questo eh quello che noi abbiamo visto adesso dell'interpretazione dell'aumento della temperatura e eh analisi che sono state fatte e se volete approfondare a fare degli approfondimenti potete trovare lì eh tutti gli articoli su cui eh è stata basata e come sono state fatte queste analisi mostra che il 97 per cento eh del 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 degli articoli che vengono pubblicati e perciò del consenso scientifico è per l'interpretazione che abbiamo visto un secondo fa in quei grafici quindi l'impatto l'impronta dell'uomo sul cambiamento climatico in questo preciso momento è sicuramente la predominante. E torniamo per l'ultima diciamo l'ultima parte della nostra discussione ed è la parte più interessante cioè la parte in cui la scienza e eh la 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 politica si incontrano e introduciamo quello che è uno dei degli elementi fondamentali nella 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 nel dialogo scienza politica che è il pannello inter intergovernamentale sui cambiamenti climatici intergovernamental panel on climate change. Arriveremo fra un attimo a dire che cos'è e come lavora ma mi premeva eh anche se non andremo nei dettagli farvi vedere che che arriva come risultato di un processo. Questo processo partito dall'inizio degli anni settanta con le prime conferenze mondiali sullo stato del pianeta e in particolare le prime conferenze dove si discute di quali è di quali sono lo stato della conoscenza in quel momento e anche l'urgenza che la scienza pone di fronte alla politica per ciò che riguarda quello che sta succedendo è quello che è necessario fare. L'ONU e eh alcuni dei suoi eh delle sue ehm dei suoi corpi come l'organizzazione mondiale della meteorologia cominciano a lavorare veramente perché questa questa legame scienza politica venga veramente eh venga veramente fatto venga veramente scritto e venga veramente messo in piedi. Quindi si arriva finalmente alla fine degli anni ottanta con la richiesta in particolare alle nazioni che fanno parte dell'organizzazione mondiale della meteorologia di accordarsi sulla costituzione dell'intergovernamental panel on climate change. L'intergovernamental panel on climate change è un'organizzazione di governi, è un'organizzazione eh governativa ed è ehm fatta da cento novantacinque eh nazioni che collaborano e sono quelle le nazioni che fanno parte dell'ONU o dell'organizzazione mondiale della eh della meteorologia. Allora eh l'IPCC eh coordina questo lavoro, gli assessment eh quindi le valutazioni dell'IPCC con i rapporti che vengono scritti sono una presa in carico è una valutazione, è uno screening di tutte quelle che sono le pubblicazioni scientifiche sull'argomento del climate change. Un gruppo molto molto grande di scienziati in tutto il mondo viene messo insieme questi scienziati lo fanno in maniera volontaria quindi non sono pagati dall'IPCC per farlo eh fanno questa valutazione, questa revisione, mettono, scrivono i loro rapporti e questi rapporti poi vengono valutati di nuovo da dei pannelli di esperti e dalle nazioni che sono indipendenti dagli dagli autori stessi e alla fine quindi il rapporto viene pubblicato. Lo scopo sin dall'inizio è stato quello ed è tuttora quello di eh riuscire a dare eh lo stato della conoscenza eh della scienza sul clima per poter dare l'opportunità quindi alla politica di prendere di fare le proprie azioni. cinque sono questi rapporti qui eh si può leggere come è stata questa conoscenza ha portato avanti e come come via via questi eh assessment sono diventati sempre più pressanti sul sullo ruolo dell'uomo e su quello che stava eh succedendo. Il prossimo verrà pubblicato quest'anno fra quest'anno e l'anno prossimo. Dunque l'ultima parte quindi abbiamo l'ultimo eh spettro in cui noi siamo qui ormai siamo a una variazione della temperatura che arriva fino a quasi verso un grado e abbiamo anche contestualmente la 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 prova dell'aumento della CO2 ehm. Monaloa è scelta ma è un posto molto remoto. La CO2 eh ha una vita media molto elevata nella nella atmosfera come abbiamo visto quindi diciamo che è abbastanza distribuita bene su tutto il pianeta e quindi Monaloa è uno dei punti dove possiamo tranquillamente eh avere un'idea di quello che sta succedendo e lo vedremo più avanti. Un altro punto importante eh avviene nella fine del mille nel 1988 James Hansen che è direttore dell'Istituto per gli studi spaziali della NASA è un modellista del clima fa un'audizione di fronte al Senato degli Stati Uniti. Ancora una volta lì dice appunto che eh la Terra ormai era più calda rispetto all'inizio del periodo dell'inizio delle misure sperimentali e il riscaldamento globale è abbastanza grande che eh ormai eh punta con un certo grado di di confidenza alla relazione appunto causa-effetto con l'effetto Serra eh di tipo antropogenico quindi con con l'effetto dell'uomo su questo. In Europa all'ONU alla fine degli anni ottanta nell'ottantanove Margaret Thatcher spinge per un patto climatico e la prima è la prima eh movimento verso la formazione di quella che sarà una convenzione molto importante e partendo dal fatto che comunque c'era stato già un grande ehm un grande successo a livello proprio delle nazioni di diminuire quelle che erano i CFC i gas CFC che anche quelle sono dei gas Serra e andavano a distruggere il il lo strato dell'ozono chiama appunto eh a raccolta per avere la possibilità di avere una di scrivere e di negoziare una convenzione a livello internazionale una sorta di guida per gli stati di buona condotta per cercare di porre un 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 porre un limite a quello che stava succedendo. Chiama anche eh l'opportunità di avere dei protocolli di monitoraggio cosicché veramente ciò che poi sarebbe stato fatto potesse essere davvero monitorato e che non rimanesse proprio veramente solo una buona intenzione e alla fine eh il Regno Unito propone appunto che sia l'IPCC a con il suo a con i suoi assessment con il suo assessment a dare la base scientifica per i negoziati di questo protocollo ed è quello che poi avverrà eh da quel momento in poi. eh la politica per il clima comincia anche nel in Europa nel novanta dove eh gli stati membri i capi di stato cominciano a discutere infatti dell'adozione il più presto possibile di obiettivo di obiettivi per diminuire queste emissioni e accordano appunto di stabilizzare le emissioni eh al duemila rispetto alle alle emissioni del millenovecentonovanta avevano già individuato delle aree di intervento nel passato che comunque avrebbero avuto un effetto importante che è la promozione delle delle sorgenti di energie rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica e alla fine stabiliscono anche un meccanismo di monitoraggio in modo tale che le varie nazioni potessero essere monitorate nel raggiungimento di quali erano questi obiettivi e a livello interna internazionale quello che succede sotto appunto la convenzione eh quadro sui cambiamenti climatici il framework convention on climate change sotto leggi da dell'ONU questo cambiamento questa questa negoziato andrà in porto eh sotto la convenzione vengono ehm vengono eh organizzate eh i conference of the parties che sono proprio le le i COP i meeting COP di cui sentiamo parlare eh noi abbastanza ehm frequentemente anche sui media tra questi COP il primo in particolare nel 95 stabilisce di preparare quello che sarà il protocollo di Chioto che entrerà in azione nel 2005. Infino l'ultimo è quello che conosciamo bene quello l'ultimo di questa figura che è il COP 15 e dove l'accordo di Parigi viene adottato. L'accordo di Parigi viene adottato con 195 firmatari per la prima volta tutte le nazioni veramente si impegnano a raggiungere un obiettivo che vedremo essere molto ambizioso e anche aiutare le nazioni in via di sviluppo a fare la stessa cosa. Tre sono i pilastri dell'accordo dell'accordo di 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 Parigi. Il primo è quello di tenere il riscaldamento sotto i due gradi eh rispetto ai livelli preindustriali puntando a limitare possibilmente a 1.5 gradi questo aumento. Per farlo bisogna che le emissioni raggiungano il picco il più presto possibile prima di diminuire ma dal 2050 bisogna raggiungere quello che è la la neutralità climatica quindi un equilibrio fra le emissioni eh di CO2 dei gas e serra e le rimozioni. E infine l'altro è importante è che è la revisione quindi ogni cinque anni a partire dal 2023 questi obiettivi che sono stati messi vengono eh valutati. Ovviamente eh e anche questo Amos l'aveva introdotto prima l'Europa fa propri esattamente quali sono gli obiettivi del dell'accordo di Parigi è uno dei firmatari e nel Green Deal europeo rende possibile nel suo programma l'obiettivo di fare della Unione Europea il primo continente a impatto climatico zero per il 2050. Non vuol dire come ho detto prima diminui a zero le emissioni ma vuol dire rimuovere anche la CO2 dell'atmosfera in modo tale che il bilancio risulti essere zero. E c'è tutta una serie ovviamente di eh legislazioni e di azioni da fare che accompagnano questo sia per ciò che riguarda la riduzione delle emissioni ma sia anche per l'adattamento ai cambiamenti climatici perché comunque quello in atto continuerà e noi dobbiamo essere preparato. Questo è il quadro finale di quali sono le azioni fatte eh dalla fine degli anni ottanta quindi con l'inizio della dell'IPCC fino adesso e raccolgono un po' tutto quello che abbiamo detto abbiamo detto finora. E se guardiamo l'impatto di tutto questo sulle emissioni europee eh beh qui guardiamo i dati ufficiali riportati dai vari stati membri ehm in tutti questi anni l'ultimo è il 2019 e quello che vediamo è che la riduzione finale rispetto al millenovecentonovanta è del ventun per cento quindi ehm è stato veramente le azioni messe in campo hanno dato il risultato che eh si era eh sperato. Se guardiamo invece dal punto di vista globale la situazione qui vediamo eh la CO2 per come uno degli esempi vediamo il suo aumento dal millenovecentosettanta fino a quasi ai giorni nostri e non vediamo quella diminuzione molti sono i settori eh la produzione dell'energia, l'industria, il riscaldamento, gli edifici, il trasporto eccetera eccetera però eh dal millenovecentonovanta questo è aumentato del sessantassette per cento e infine anche se eh possiamo in qualche maniera aggiustare su e giù la scala di di queste di queste sia della temperatura che della concentrazione della CO2 quello che è eh che possiamo veramente dire è che queste crescite vanno veramente insieme. Non vediamo più adesso quella anticipo dell'aumento della temperatura rispetto alle concentrazioni di CO2 che vedevamo in una terra senza l'impatto dell'uomo quello che vediamo adesso è una crescita che viene in maniera contemporanea e per finire questa presentazione eh volevo farvi vedere questo piccolissimo filmato ma eh dove eh è è molto bello vedere ehm eh quello che succede appunto alla nostra concentrazione della CO2. Stiamo guardando fra poco una un viaggio molto veloce nel tempo prima in avanti e poi indietro delle concentrazioni della CO2 che sono state misurate o trovate e per farvi vedere come vengono anche messe insieme queste misure nel grafico qui sopra dove vediamo il globo vediamo il numero di stazioni che corrispondente all'anno che trovate lì sotto erano presenti quindi vedete anche quanto cresce il numero di questi punti e quanto diventa solida la conoscenza che noi abbiamo e nel quadro di sinistra noi vediamo uno spaccato eh da nord a sud del del nostro pianeta dove vediamo lì il l'aumento della della CO2 come procede e quindi spero adesso che sia questa no non è questa quello giusto scusate che è sempre abbastanza difficile questo ecco ora ci siamo quindi guardiamo ora qui sulla sulla destra l'aumento della CO2 il punto rosso è Mona Loa il punto blu è il South Pole noi abbiamo visto che queste misure erano state usate moltissimo per come come parametro per vedere anche la concentrazione della CO2 che poteva esserci nell'atmosfera eh vediamo appunto questo ciclo stagione eh ciclo annuale che abbiamo imparato a vedere dovuto proprio alla risposta del nostro pianeta queste concentrazioni vediamo anche col passare degli anni l'inesorabile ascesa di queste eh concentrazioni col passare degli anni vedete anche nel grafico in alto lì il numero dei punti che crescono e quello è il numero dei punti utilizzati in quell'anno per costruire il grafico delle nostre informazioni delle concentrazioni della CO2 e qui vediamo che cosa succede eh lungo tutto l'arco della 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 nostra terra le concentrazioni nonostante abbiamo delle flutazioni abbiamo molte sorgenti soprattutto antropogeniche al 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 nord eh comunque questi valori stanno crescendo in maniera uniforme su tutto la su tutto il nostro pianeta mi faccio un attimo una pausa perché ora quello che vedremo faremo invece uno scorso verso il passato e vedremo ricostruire esattamente prima con le misure di Killing e poi le altre misure che abbiamo visto prima qual è diciamo eh tutta la sequenza delle concentrazioni per quanto noi sappiamo ecco che le misure di Killing appaiono queste verdi e eh sulla sulla sinistra naturalmente si alza il grafico perché stiamo scendendo con le nostre concentrazioni arrivano tutti gli altri punti gli altri punti che sono stati presi eh particolarmente dal dai dai ghiacciai eh del nei vari posti al mondo e poi c'è quindi la ricostruzione di quali sono eh gli anni del passato e eh ritorniamo appunto indietro ricostruendo un po' questo è ancora la parte che noi abbiamo visto insieme il le i picchi delle concentrazioni della CO2 con i loro cicli ecco la ricostruzione di quello che è degli ultimi 850 anni come abbiamo visto e quindi possiamo vedere che eh quello che avevamo misurato diciamo in questo periodo avevamo circa 185 ppm contro le concentrazioni veramente elevate che noi abbiamo nel gennaio 2019 erano 411 e adesso sono cresciuti ancora e con questo veramente ehm vi ringrazio per la vostra attenzione e quindi